Adesso che Cesare Battisti, coatto, delinquente comune, ex-terrorista, ha ammesso le sue responsabilità rispetto ai delitti che gli sono stati imputati, cosa diranno coloro che ne hanno tenuto il poster in cameretta? Che hanno visto nella sua faccia tracotante quasi un simbolo, nella sua faccia di cazzo. Cosa intendo per faccia di cazzo? Il tratto della supponenza. Nel corso degli anni ho raccolto anche degli insulti perché sostenevo quanto la faccia di Battisti fosse detestabile, quanto rappresentasse una subcultura che mi importa poco qualcuno abbia assimilato alla rivolta, alla rivoluzione, a concetti che mi sono, diciamo, per storia personale prossimi. Ma adesso il dato è che Cesare Battisti rimane un supponente coatto, delinquente comune tracotante. Ognuno è libero di mettersi in camera, come dicevo prima, ciò che è meglio crede. E qualcuno potrebbe dire, ma ti sei visto tu con la tua faccia, non meno di cazzo? Sì, ma io non ho mai ammazzato nessuno, se non è chiaro. E adesso qualcuno dirà, ma neanche Battisti è ammazzato nessuno. Anche io ho un cameretta, qualche ritratto. Ad esempio, chi ricorda questo libro? Dove si racconta la morte di un ragazzo ventunenne, anarchico, Franco Serantini. E forse uno dei più straordinari pamflet di denuncia civile che l'Italia abbia mai avuto. E io, ad esempio, l'hai visto? Ho in cameretta il suo ritratto, replicato da Bruno Caruso, colui che lo ha fatto, no, sta bene anche a testa e giù. L'avevo fatto nel 71. Ma il poster, il ritratto di quella faccia di cazzo supponente coatto di Cesare Battisti, non ce l'ho. Avevo ragione io. Fulvio Abate, Tele e Due Ruti. Da anni che affermo quanto fosse un coatto tracotante. E quegli altri col poster suo in cameretta. Avevo ragione io. Tele e Due Ruti.